Con il Brand Manfrotto siamo fra i produttori più importanti a livello internazionale, made in Italy, all'interno del mondo della fotografia e del video. Dal 1990 il Brand Manfrotto fa parte del gruppo Vitec come divisione Imaging Solutions. Vitec Group Imaging Solutions ha sedi in tutto il mondo e grazie a Team può contare su soluzioni nazionali e internazionali di connettività a larga banda. Utilizziamo 200 macchine virtuali all'interno del data center Team di Padova. Una server farm affidabile e protetta a cui colleghiamo le nostre sedi da tutto il mondo. Vitec ha scelto Team Business anche come partner mobile per restare in costante contatto con la sua rete di vendita in Italia e all'estero. Stiamo inoltre lavorando per potenziare le nostre attività di disaster recovery ed alta affidabilità all'interno del data center di Team per dare un miglior servizio alla nostra azienda. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e siamo certi che Team sia il partner giusto per accompagnarci. . . . . . . Grazie a tutti.